Lo sapete che Danilo Petrucci si è fatto abbastanza male a causa di un incidente occorso a Cingoli sulla pista di Cingoli facendo motocross. La brutta notizia ovviamente è che rischia, cioè è quasi sicuro che non correrà ad Assen che è fra una settimana e quindi ci sarà da sostituirlo. Però forse non è detto che nonostante la rottura della scapola, la parte clavicola e mandibola che la sua stagione sia compromessa. Anzi ci sono dei dati e delle informazioni incoraggianti in questo senso. Da un lato però dovrà comunque essere sostituito, dall'altro ci sono appunto delle buone notizie. Innanzitutto forza Danilo riprende, poi noi guardiamo un po' i dettagli dell'incidente, della moto e un po' di nomi di candidati con un fortissimo ipotizio. Ok? Dai! Ciao da Mr. Helmet, dicevamo Danilo Petrucci che non è l'ultimo arrivato nel fuoristrada perché sappiamo che nasce crossista e ha fatto la Dakar e quindi insomma non è uno che è andato improvvidamente a fare motocross, si è fatto male a cingoli che è una pista abbastanza tecnica e abbastanza rognosa dove si va molto forte cadere a cingoli è come cadere al Mugello per intenderci, con la moto da cross non si scherza. La sua moto è questa qui e direi che un cerchio così è abbastanza difficile da vedere, ok? Questa è la moto di profilo, queste immagini non sono certo un'esclusiva, sono già girate sui vari social, vedete la moto completamente scardinata, si è infilata. L'incidente è questo qui, cioè l'incidente Danilo è saltato dove vedete e poi è andato a stamparsi nella gobba quindi a salita già iniziata, capite bene che è andato ben oltre di quello che doveva fare come salto. Danilo che è comunque cosciente e tutto il resto, è dall'ospedale, ci ha scritto, è stato già operato alla mandibola e sembra sia andato tutto bene. Vuole operarsi anche alla scapola e alla clavicola, credo. Allora, devo dire che per quanto la botta sia stata forte, veramente fastidiosa, devo dire che ci sono notizie incoraggianti da parte dei medici. Da quanto ho capito, la dottoressa San Giorgio della Superbike l'avrebbe vista e quindi avrebbe, diciamo così, scongiurato una situazione molto più drammatica, tipo un impatto laterale della mandibola che avrebbe causato tutte altre cose, eccetera. E quindi, se è vero che Danilo non sarà ad Asser, come è, insomma, è evidente, è anche vero che quando si parla di scapola, mandibola soprattutto, è anche vero che è stato detto che la stagione non è compromessa, per cui lo sappiamo che dopo a Misano ci sono altri due mesi e quindi, devo dire, le possibilità per Danilo, per riprendersi, ci sono tutte. Per intenderci, vi faccio vedere un video in cui viene mostrato dall'inizio della ripresa a sinistra fino a dove c'è il bobcat, ovvero lo scavatore, quello è il salto che ha fatto Danilo. Guardatelo. Ve lo faccio rivedere. E si è andato a stampare lì. Direi che ci sono parecchi metri. E quindi questa è una di quelle cose, a detta di chi era presente, che spesso poi i piloti non riescono a raccontarle di persona, tralasciando i dettagli anche macabri e granghignoleschi di quando si è alzato, quando è accaduto in ambulanza e tutto il resto, possiamo dire che Danilo se l'è vista brutta. E noi chiaramente gli auguriamo ogni bene. Bene, vediamo adesso chi potrebbero essere i sostituti. Innanzitutto per Barney tendenzialmente non ci sarebbe neanche l'obbligo, con un così scarso preavviso e una data sola, di schierare per forza una moto. Però noi sappiamo che Barney Racing Team non è squadra che salta le gare. Quindi tendenzialmente Barney, seppur non con Danilo, ci sarà. Allora, io adesso ci sono, c'è tutta una lista di piloti che potrebbero prendere il posto, ripetiamo, per una gara sola, perché ci sta che, a parte, salvo complicazioni, Danilo sia pronto già per Misano, che lui vorrebbe correre anche subito, però non è. Allora, intanto, per quello che riguarda me, il sostituto naturale è un paradosso, dovrebbe essere Pirro. Pirro però non può, perché è impegnato con dei test MotoGP Barcellona. Un altro fa abbastanza ridere, però tendenzialmente, se dobbiamo pensare a un pilota Ducati, esperto, eccetera, libero, che non fa il mondiale, che non fa l'italiano, insomma, che conosce, potrebbe essere, tenetevi forte, Zanetti, però è evidente che per i trascorsi che ci sono stati fra lui e la squadra di Barney, eccetera, questo non può succedere. Ci sono poi due nomi interessanti, anzi tre. Uno è un super veterano di lusso, che è Tom Sykes, potrebbe avere un senso, tenetelo a mente. E poi ci sono due piloti, diciamo così, latini, che potrebbero andare benino, anche se non sono al momento nell'orbita Ducati. Uno è Xavi 4S, che con Barney ha già lavorato e che comunque, quindi insomma, non è, non sarebbe né un sostituto senza senso né qualcuno che non conosce la Superbike, e l'altro sarebbe Tati Mercado, ok? Però quest'ultimo è impegnato per l'Endurance, perché sappiamo che ha un contratto di questo tipo. Quindi questi due piloti, oltre a Sykes. Ora, io mi permetto, nella mia, diciamo così, follia ipotistica, ipotizzante, con i contatti e i rumors, eccetera, che giungono alle mie molto appuntite orecchie, di dire che è molto probabile che sulla moto di Barney, non Pirro, non Sykes, non Mercado, non Forest, ci possa salire Nicolas Spinelli. Potrebbe essere interessante per Barney schierare questo pilota con cui aveva avuto già dei rapporti nel National, che poi doveva schierare nel Mondiale, ma poi è arrivata l'occasione di Petrucci. È come non comprendere la scelta di Barney, c'è una specie di obbligo morale, una specie di risarcimento, una specie di atto di, come posso dire, di venire l'incontro. Ecco, quindi Nicolas Spinelli che con Barney ha già corso, ok? Questa è la mia ipotesi. Ma quello che più conta è che Petrucci, che si è fatto tanto male e che ci ha fatto tanto spaventare, pur nelle rogne, pur negli antidolorifici, nella brutta nottata passata, nelle placche e placchette chiodi chiodini, nelle fratture, nelle imprecazioni che può aver tirato, è stato ben curato alle torrette di Ancona ed è ovviamente un toro meccanico per cui si è fatto meno male di quello che si sarebbe fatto un comune mortale che sarebbe molto probabilmente passato al di là, diciamo così, dello Stargate, sempre se non avrebbe penetrato la montagna. Per cui in bocca al lupo a Danilo e questo video mi ha fatto abbastanza male farlo e rido un po' per farlo scemo, per chi mi ha dato fastidio, però tenete almeno conto di un ipotizzo che mi sono sforzato a fare. Ciao a tutti e ciao da Mr. L.